oh bella di padella bella a tutti i ragazzi bentornati su b2square gaming come al solito qui il vostro franceschino che si accompagna con giorgino no raga io oggi non ci sono perché non ci sei sono stanco molto allora ho scoperto che non abbiamo un potere a pagarlo peso d'oro cioè qualsiasi tasto vedi fa così che sembra super c'è un russo capo ma non posso fare nulla capito guarda adesso guarda cosa dice capire la schiaffi una cosa succede non posso neanche i pugni cioè hai perso pure l'abilità di tirare i pugni se andiamo verso questa stellina ci sarà qualcosa e che temo che dovremmo scoperchiare quei bombolotti del dupi e ma pugni non lo so ma scusa qui si è arrampicato però scusa ma non c'è del fumo non ho provato niente un cazzo questi forse riesco a liberarli sono russi 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 o sono russi o sono portoghese tutti russi qua nel quartiere cinese che cazzo c'entra è giusto così meno male che sei qui reggi mi salva un secondo hai detto che hai perso tutti i poteri si ho perso tutti i poteri ho perso il fumo ho perso il neo nel video non ho nemmeno preso è una notizia grandiosa una notizia grandiosa ho mille di op che vogliono farmi la pelle io non ho niente per fermarli cercavamo una cura per il tuo problema ed eccola qua tutta quella roba da bioterrorista è sparita delzina possiamo tornare a casa tornare a casa ascolta hai fatto del tuo meglio ok la tribù lo sa io lo so è già un miracolo che tu sia ancora vivo per favore non possiamo mollare tutto finché siamo in tempo dimmi la verità se tu fossi me torneresti a casa e basta assolutamente se fossi ti no ok non mi importa se dovrò lanciarle pietre io affronterò augustine ma dato che vorrei evitare uno scenario alla davide golia ho davvero bisogno di te ok va bene a quanto pare hai già preso una decisione quindi a cosa ti servo beh se ho qualche possibilità di riavere indietro i miei poteri sarà con uno dei nuclei trasmettitori ma certo ma cazzo regge non posso rompere qualcosa senza poteri ok quindi in realtà non mi servi tu ma mi serve la tua pistola no 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 non ti darò la pistola questione chiusa devi cazzo ma forse posso prestarti un paio di proiettili mica che figo eh mamma mia grazie fratello super cagata fotonica so già che mi pentirò della domanda ma novità forse ti conviene stare indietro premi l1 per diventare invisibile ma capo madre devi ancora vedere i tasti ti chiamo e ti dico ah no io vengo con te no 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 col cavolo ci penso io senti a meno che tu non vogli aprire il nucleo con l'invisibilità hai ancora bisogno di me e poi non sai neanche dove si trova ma quindi vuol dire che non riesco ancora no devi seguire il tipo dovevi restare con un potere solo l'invisibilità non è male esatto sognavo di diventare invisibile da quando sono entrato nella pubertà ok meglio non approfondire per andare a spiare le donnine nude è sicuro cioè può fare qualche cosa evidente può farsi un raspone dici ma là c'è un tipo che corre ok regge magari forrest gump guarda guarda vai aprilo iabatabaduuu bene sei già a posto adesso non è che tanto sono lento come no c'è un attacco lo spero perchè il D.O.P. è diretto proprio verso di noi ah proprio così vedi non posso ancora diventa invisibile capo ma ma cazzo oddio non posso neanche scappare mi tocca correre come forrest gump qui ma non ho capito sei diventato invisibile no adesso provo di nuovo a diventare invisibile non mi hanno neanche visto la foto ha perso un uomo beh bisciotti quindi è più forte no cazzo di buddha no no non mi spara ecco lo sapevo lo sapevo cazzo oh e ogni sessione di registrazione che iniziamo ogni troviamo il prossimo nucleo trasmettitore mi dispiace ma è pericoloso non puoi venire pivello ma hai capito come l'ha fatto passare lo stesso? che culo ma quindi non può venire pivello ma ha preso in parola ah ma no ma sta andando là sono quello che sa dove è il prossimo trasmettitore scusa ti metto in attesa eugene sono delsin senti i tuoi amici avranno fatto un minimo di ricognizione aerea nei dintorni no? si devi aiutarmi a trovare una cosa sai quelle casse luminose che il dupi ha disseminato per la città? certo aspetta ce n'è una non lontana da te grazie ah in strada ho visto due presunti bioterroristi tormentati da un gruppo di assalitori che ne dici? io ho la mia spada nuova potremmo aiutarli quella spada è una figata eh? già è incredibile ti interessa? lascia stare cosa vuoi fare gioco? gli angeli di livello 11 che mi aspettano nella valle della morte beh mi pare un appuntamento irrinunciabile dimmi cosa ti turba? no non capisco ce l'hai sto potere o no? prova ad attaccare si chi c'ha? no e allora si però ho solo due poteri e ne troverò l'altro su di là no? cioè vedi posso solo correre però se posso solo correre puoi diventare invisibile per esempio no perché poi se ne accorgono porca vacca non tiriamo l'attenzione se uso i poteri loro si fermano ma sei invisibile che senso ha diventare visibile? eh ma dopo quando ridivento visibile se sono nel loro raggio di azione mi fanno il culo ho capito qual è il mio big issue? big fish big issue big fish big issue non ha maniche di scema scusa non voglio morire qual è il tuo problema? hai paura che ti sghamino? no no che leggevo posso assorbirmi cosa avrei imparato a fare? oh che bello vogliamo vogliamo come si fa? questo mi sembra un bel comunque la c'è un nuovo obiettivo ora posso correre e nasconderti scatta verso una parabola satellitare per lanciarti in volo ok ma secondo te non posso ancora assorbire il vediamo secondo me no anche secondo me ah però è scritto assorbineo no non lo so la ragazza quella sull'autobus sta bene oh feci si è fantastica ah senti lei è superiore ai tuoi standard è come paragonare la merda con la nutella non so se mi spiego ma dove cazzo sono mi sa che sono in un posto brutto 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 ma brutto brutto proprio ragazzi sono comunque si sono da liberare queste zone sai cos'è sai cos'è non posso neanche assorbire più di tanto perché che quanto cazzo grande sto comunque più veloce non c'è un cazzo da fare come non può essere più veloce di questo che cazzo di questo è perché questo va non posso ancora assorbire è cribbio ma quanto era alto sto palazzo non so se hai notato figlio c'è pure l'elicottero ci sono gli angeli eccolo ci sono i demoni mi serviva una squadriglia di alleati volanti perché fai così vai 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 cosa posso fare adesso bomba bombazza cosa che è assorbito prima che è il video video kill the radio star oh vi siamo a zeldoni eh hai visto ma come si usa è come una bomba penso ma va lo vedremo adesso premi R1 per lanciare le lame sanguinarie ma quanti sono oh ma perché mi avete preso oh sciola di merda si sembra un po' altamaro comunque dobbiamo liberare qualche zona volevo farlo io ma adesso scommetti che posso assorbire ma capo devi sparare alla gente si mi sa che lo ho fatto un bel volo devi stare fermo per recuperare vita puoi per esempio diventare invisibile non puoi pararmi mezzo culo noi conduit dobbiamo difenderci l'un l'altro ok la prossima volta ho trovato un altro ok non è lontano grazie mica devi assorbire un altro potere ah si la bombona finale siamo un po' dei vili in questo momento perché continuiamo a scappare forse è la parte giusta si visto che siamo in territorio ostile si dovevo solo fare era più corto visto che siamo in territorio ostile te la butto lì direi di camminare come ogni santo cristiano ma ti ha sgamato la telecamera non so se hai notato eh temo di sì sperando che non ce ne siano altre le telecamere ovunque ma c'è il gem pare che ti conviene scappare cioè volare capo è la sonora dove cazzo lo vedi il nucleo eh sarà qua sotto mi sembra evidente è lì infatti proviamo a fare la bombazza bombazza civile ucciso per tre bravo ma cazzo porca di troi che palle cazzo sono ovunque questi civili e questo che cos'è? R2 ma provo a usare quel cazzo di le zeldone capo questo è più veloce però eh ma le zeldone sono un zeldone tra l'altro mi sembra che non faccia così tanto male questo fa tanto male no? così ti è piaciuto? mi sembra che funzioni pensavo di aver visto di tutto ma sono anche homing sì mostri alla riscossa sì certo yuhu e tutto ma porto brutte notizie ho localizzato un altro nucleo perché brutte notizie? c'è una squadra del DUP in zona ma forse hai già sviluppato abbastanza poteri perché rischiare se non sappiamo neanche cosa otterrai? non farmi le solite paranoie alla Eugene ok? se usiamo il cervello non c'è niente che due stalloni conduite un esercito di angeli e demoni non possono fare eh sullo stallone non saprei ma vediamo appena arrivo là minchia zio cioè capito è tutto è tutto è tutto arrossito perché gli hai dato dello stallone eh si eccita così evidentemente allora quindi dobbiamo andare da che parte da che parte no è a destra figa devo attraversare mezza città vabbè voli capo che problema c'è è che tu hai ragione doc vogliamo ma c'è vai sapere questo edificio comunque se riusciamo a sviluppare con i pochi frammenti che abbiamo a disposizione qualcosa forse è meglio ne ancora non c'è ah no non c'è già allora lame premi r1 no ma secondo me è slancio video ok galleggia automaticamente quando ingrandisci la visuale no non dai tere scusami questo è importante vai fallo subito cos'è incremento di segnale premi x picco anche questo vai 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 invisibilità potenziata ma no chi se ne frega avvicinati silenziosamente a un amico senza tornare nuovamente visibile beh non è così brutto vabbè puoi farti flusso video potenza riduce il consumo di energia anche questo è importante vai fanno 1 no fanno tutti e 2 esatto e assorbi video più vabbè eh fatti invisibilità evocarlo fatteli tutti e 3 quelli là 5 e 3 sono sono 11 punti fatteli tutti e 3 quale? evocaleato invisibilità potenziata invisibilità estesa questo come si fa? ma mi sa che lo fai in automatico non c'è scritto niente ehi si poi dobbiamo assolutamente procurarci nuovi frammenti perché così ok minchia lì c'è un mitragliatore visto? che paura fai il saltino dopo che hai fatto la planata bravo sono minchia vabbè ma sali sopra scusa sali sopra l'edificio e fattila tutta volando minchia la bombazza no no hai visto che non mi dava la possibilità qui forse si vai fai lo scout no ma dici scatta verso una parabola satellitare hai capito? minchia minchia diventa invisibile ma andiamo Eugene puoi fare di meglio caro il mio stallone condui ok gente vinciamone una per il giocatore ma in tutto questo non ho ancora visto ma questo ah ok è lì ecco perfetto eccoci qua cosa può fare adesso vabbè ragazzi volete vedere la bombazza non ci resta che darei appuntamento alla prossima a bombazza ma andiamo Grazie.